Parliamo di RC Auto, gli ultimi dati confermano ancora una volta come il costo delle polizze nel nostro paese resti notevolmente più alto rispetto ad altre realtà europee. Le compagnie assicurative se vogliono poi andare a incidere sul fenomeno delle truffe assicurative dovrebbero in primo luogo andare a vedere al loro interno quello che succede e chiaramente sanzionare e prendere dei provvedimenti proprio sul personale che hanno. Perché comunque non è solo l'automobilista che è in grado di perpetrare una truffa, ci vanno delle complicità che spesso si annidano all'interno delle compagnie. Come valuta la decisione dello stralcio dell'articolo 8 dal decreto destinazione Italia? Prima di tutto bisogna cogliere molto positivamente questa notizia e quindi il fatto che oggi l'articolo 8 del decreto legge iniziativa Italia sia stato stracciato dal governo. Dispiace sinceramente che ciò sia intervenuto a seguito di significative pressioni e anche difficoltà perché poi opporsi alle dobbi delle compagnie assicuratrici non è mai facile.